Sette cose che gli uomini amano in una donna. Allora, la prima cosa che gli uomini amano in una donna è, possiamo dire, un suo aspetto salutare, perché questo sembra istintivamente una donna in salute, una donna, e quindi una donna in salute vuol dire una donna vitale, una donna con i capelli curati, una donna curata. Deve apparire questo, attrae tantissimo gli uomini. Gli uomini amano questo, istintivamente. Un'altra cosa è il tono di voce. Un tono di voce, una voce sensuale, una voce seducente, è veramente qualcosa che fa scattare, non so che, nell'uomo. Un'altra cosa, la terza cosa, è il sorriso. Un sorriso malizioso, un sorriso aperto, un sorriso bello. È una cosa che piace tantissimo agli uomini in una donna. Questo è un punto fondamentale. E poi il quarto punto è il movimento, muovere i capelli, muoverli, alzarli. Scoprire il collo. Questo è un atteggiamento che piace molto, un atteggiamento molto seduttivo, che conquista molto gli uomini. E poi, questo vale ovviamente non per il catrammista a classe integrato, ma per gli uomini di qualità. Gli uomini di qualità apprezzano una donna di cultura, una donna che abbia una cultura, una donna che sappia comunicare, una donna che sia realizzata anche proprio da un punto di vista culturale, sociale, lavorativo. Questo è un punto fondamentale. altro atteggiamento o altra caratteristica che piace a una donna è una donna che sa quello che vuole e una donna sicura di sé, una donna emotivamente stabile. La stabilità emotiva veramente attrae tantissimo gli uomini. E il settimo punto è lo sguardo. Una donna che abbia uno sguardo anche qua penetrante, malizioso, seducente, allenati lo sguardo. Questa è una cosa che agli uomini mi fa impazzire veramente. Per questo video è tutto. Ti ricordo di seguirmi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Massimo Tramasco, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, esoterismo e spiritualità. E non perderti il nuovissimo canale YouTube, Liberti dei narcisisti, con Massimo Tramasco. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video mi raccomando. Liberti dei narcisisti, con Massimo Tramasco.